Arturo, l'amico di Raffaello, non so se... Oh, Arturo! E che ci fai qua? Storia un po' lunga, difficile da raccontare. Scusami un attimo. Amore, senti, ti richiamo io tra poco, eh? Posso? Prego. Sto cercando Stella. Stella? Stella, la mia fruber friend ideale. Non si chiama Stella, no, si chiama Flora. Il suo vero nome è Flora. Flora? Sì. Noi qui sul lavoro usiamo un altro nome, un nome d'arte, come gli attori di cinema. Io non mi chiamo mica Giampiero. Ah no? No, io mi chiamo Giampiero. Giampiero Clementucci. In realtà... Nasco geometra. Ah, addirittura. Sì. Amministravo condomini? Eh, sì. Ed ero molto apprezzato, sai. Sì, poi hanno deciso di affidare tutto a un software. Capisco molto bene. No, questo alla fine è un buon lavoro. A parte la lontananza, i ritmi un po' serrati. Però, ecco, è un buon compromesso, no? Giusto, giusto. Alla fine ognuno campa come può, no? Ecco, sì, sì. Tante volte ve lo dico anch'io per resistere qua. Per Arturo non è giusto. No, perché vedi, un domani magari, le cose potrebbero essere peggiori di queste. E poi ancora peggio, è peggio. E quando questo avverrà, perché avverrà, Arturo, noi che tutto questo peggio l'abbiamo visto crescere, ci domanderemo che cosa abbiamo fatto noi per arginarlo. E sai cosa ci risponderemo? Cosa? Che noi come stronzi rimanemmo a guardare. Scusa, eh, scusa. Mi siamo lasciato andare. Io ero sindacalista da giovane. Ah, i sindacati. I sindacati, sì. Un po' di nostalgia. Parliamo di te. L'hai già incontrata, Flor?